L'immobile di proprietà della ASL situato all'interno del parco Cesare Braico è pericoloso e va abbattuto. E la ASL ha detto sì. Presto il palazzo Due Piani, ormai ridotto a rudere e situato nell'unico polmone verde della città, potrebbe essere un lontano ricordo. Una vittoria personale di Giampiero Epifani, presidente dell'associazione Salviamo il Braico, che su questo argomento aveva presentato diverse denunce. La prima datata a maggio 2011, rivolta direttamente alla ASL e poi nel settembre 2011 la missiva è stata indirizzata a tutte le istituzioni locali. L'obiettivo era quello di evitare che qualcuno si facesse davvero male. Ed ora il commissario prefettizio Bruno Pezzuto ha imposto alla ASL la messa in sicurezza dell'edificio, consegnandole l'abbattimento. E la ASL sarebbe propensa a seguire questa seconda soluzione. Troppi soldi necessari infatti per un possibile recupero. L'auspicio è che queste non restino solo parole e che l'abbattimento avvenga al più presto e soprattutto che il cumulo di macerie che ne scaturirà non resti lì per tanto tempo a fare brutta mostra di sé. Grazie per la visione! Grazie per la visione!